Aspetta, la teniamolo per te. Marco, teniamolo per te. Via, 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 via. Occhio! Adesso però non eri in seconda. E' in terza adesso. Eh, caro mio! Terzo ma dovevi dargli forte. Papi anche e sparchi il parafango. Tirala su, Marco. Aspetta, 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 aspetta. Finiamola su così, così, dai. Di qui, di qui, verso il sentiero. Adesso sfidano da sotto. Tieni, vieni un attimo. Tieni, dai, tu stira da sotto. Adesso, aia, 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 aia. Mi spiace anche le mani. Tieni, vieni un attimo lì. Tieni, la tengo. Tirala fuori ancora un pezzetto. Arancio, eh? Non mi ricamata, la spostata. E calcola che anche le impostazioni di questa... Marco, dagli una spintarella a Stefano. Eh? Allora, o seconda. E tieni... Sì, adesso sì. Adesso dovrò farlo in prima, invece. No, è troppo accorta. Seconda, come l'hai fatta prima, senza chiudere. Continua. Grazie. Grazie a ricevuta i due vostri nomi... Grazie.